Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Giorgia Meloni ha rivendicato il fatto che quando lei era l'opposizione era molto più malleabile rispetto alle opposizioni che si trova di fronte. Scusa, francamente ha un ottimo inglese e un ottimo approccio, poi la Meloni devo dire non suscita affatto sentimenti di antipatia per cui credo che se vogliamo essere proprio chiari, l'unica cosa che regge di questo governo è la Meloni. Perché però il naso cresce se si dicono bugie. Lei era molto soft all'opposizione, ma mi ricordo quando voleva mettere sotto accusa per omicidio Renzi perché era successo un disastro navale con tanti migrati morti, esattamente come è successo qualche mese fa a Letro. E nessuno di noi ha chiesto di metterla sotto accusa. Quando chiedeva il blocco navale, oggi è andato al governo, ovviamente ha fatto un bagno della realtà e nessuno, tantomeno la Meloni, parla più di blocco navale. Facciamo le conferenze internazionali sul Mediterraneo. Non è intelligente escludere i francesi, anche perché credo che abbiano più voci in capitolo di noi i francesi in tante parti dell'Africa. Allora, insomma, lei ha fatto il suo lavoro all'opposizione su una cosa, bisogna riconoscere che è stata molto coerente che secondo me è stata premiata, sul tema dell'Ucraina, perché lì sia l'opposizione che il governo ha tenuto una linea.